Questa è la pista ciclabile e questo è il marciapiede Sono soppiata nata vota Non ci stanno verso con questa gente Non c'è verso, l'ho fatto chiudere una volta, lo faremo chiudere di nuovo Adesso stanno montando tutto perché sono arrivato io ovviamente In mezzo alla strada ovviamente La macchina qua in mezzo alla carreggiata Ovviamente è tutto bloccato, tutto si blocca Perché loro occupano la carreggiata abusivamente Quando ci fu l'aggressione ai miei confronti Abbiamo fatto 4 anni al proprietario Che disse che non mi aveva mai visto in vita sua dopo avermi aggredito E 3 anni No, come nessun problema Il problema è che voi bloccate il traffico Che fate attività illecita Il traffico di qua, questo qua, le macchine Sì, sì, sì Vi mettete le macchine Mettete i vostri sediolini in mezzo alla strada, alla carreggiata Anche col parcheggiatore che era vostro complice Complice dell'allora titolare che è stato condannato a 4 anni Scusami, non va più tempo Perché i parcheggiatori non sono problemi nostri Come no, l'altra volta mi picchiarono assieme Parcheggiatore e proprietario dell'Occiottola Eh, proprietario, non sape niente Per fortuna ci sono le condanne Perché se no qua mi prenderebbero per pazzo Per fortuna ci sono le condanne Mamma doveva fare il secondo grado di giudizio No, e lei non occupi abusivamente la strada Non faccia un'attività illecita Qualsiasi riserciamento otterrò Per l'aggressione per avermi mandato in ospedale Per avermi picchiato selvaggiamente In 3 erano Compreso il parcheggiatore abusivo che non c'era I loro non facevano affari Non aveva soldi Pare che si sia dismessa dalla società E abbiano cambiato i dolari La situazione è questa, quella che vedete Si sono reimpossessati della strada Un'altra volta Nulla è cambiato Nulla è cambiato In mezzo alla strada, giustamente Hai ragione, chiedo scusa Lo so, voi chiede scusa Ma intanto si passa una macchina alla volta Lo sto tagliendo Eh, perché è arrivata la polizia Perché è arrivata la polizia Per questo cambiano le cose Che vergogna Per mangiarsi un panino, eh Non perché siamo fuori in ospedale O chissà che cosa Tutto è bloccato Perché i titolari del ciottolo Mettono I loro mezzi Le loro sedie In mezzo alla carreggiata Dove non sarebbe possibile neanche parcheggiare Loro ci mettono addirittura i tavolini I tavolini Ma le sembra normale parcheggiare la macchina così Ma non esiste proprio Non è una macchina così grande Guardi come devono procedere le macchine Seconda cosa Lei pensi che mangiare un panino È una cosa da bloccato traffico Ma che c'entra? Non si può parcheggiare qua Non possono stare neanche i tavolini Queste non sono strisce blu Dove le vede le strisce blu? Questa è carreggiata Vedete che le macchine procedono È tutto bloccato A causa delle persone che devono parcheggiare Del ciottolo che deve mettere i tavolini in mesa a strada Il ciottolo sta cominciando a levare i tavolini Incredibile Li stanno levando Stanno spostando scudere Il parcheggiato in mesa a strada Giustamente era del ciottolo Eccoli qua Complimenti a tutti Complimenti Poi non avete una lira Vendete in tribunale a dire che non avete una lira Questi sono tutti i tavolini messi abusivamente Che adesso stanno spostando Guardate quanti tavolini tiene abusivi Questo è un parcheggio totalmente vuoto Dove potrebbero metterci tutte le macchine di questo mondo Perché il Loreto Mare Come sapete funziona solo come ospedale Non come pronto soccorso È tutto libero Ma possono mai fare queste persone Dieci metri a piedi E quindi Una strada totalmente libera Perché non c'è traffico a quest'ora Diventa un bordello Perché le macchine Si parcheggiano così E fanno il blocco Vedete? Si vede l'inizio del blocco È da questa strada È da questa macchina Guardate qua Tutto questo Perché non possono fare tre metri a piedi Tre metri Tre metri a piedi Non lo possono fare Perché si mangiano un cornetto Ci sta sempre una parte della popolazione Che difende parcheggiatori abusivi e incivili Oltre che delinquenti Nel caso del ciottolo c'è una condanna Aspettiamo solo il secondo grado E se ricordo bene Alcuni familiari abitavano proprio qua sopra Sarei proprio curioso se la signora è una parente La signora che dice fa schifo Ovviamente si mangia la città Ma gli fa schifo gli altri C'è l'immondizia che butta la gente come lei purtroppo Si si L'immondizia della gente che si comporta Chi è che butta l'immondezza qua? Tutta la gente d'immondezza Io mi ricordo quando feci l'altra volta l'intervento al ciottolo Pensate un po' Mi aggredirono, mi picchiarono, mi rubarono il cellulare Sono stati condannati Per questo Loro i parcheggiatori abusivi Quando tornai qua con la polizia Tutti i testimoni Tutti i testimoni Dissero che non mi avevo mai visto Per fortuna c'era il video Guardate Questi parcheggiano addirittura di fronte Sopra al marciapiede Occupandolo totalmente Anche qui di fronte Signora, le sue urla sono quello che disprezzo di più della nostra città Lei è una vergogna Lei è una vergogna Lei e le donne come lei Assolutamente Signora, per lei provo solo disprezzo Per lei e per le donne come lei Che purtroppo fanno figli Purtroppo fanno figli Purtroppo fanno figli E li educano a diventare come le mamme Da vasciaiola al terzo piano Una mezza vasciaiola Nemanco vasciaiola intera Lei rappresenta quello che io disprezzo nella nostra città Volgare Vergognosa Vergognosa E persona che difende l'inciviltà Parente quasi certamente di quelli che operano qua sotto Signora, per lei provo soltanto pena e disprezzo Glielo sto dicendo pubblicamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti